Quella notte ci siamo svegliati di soprassalto. Abbiamo sentito sei colpi. Siamo scesi subito. Mio figlio era morto. Erano entrati e lo avevano ucciso con sei spari alla vola. Questi luoghi erano cristiani. Così abbiamo preso un volo e siamo scappati. Io ho molti amici musulmani. Con loro non parlo mai di religione. Ci sono cose da cambiare. Cosa vogliono fare ancora contro di noi? Se chiude Morgabriel, finisce la storia di tutti gli Aramei. Siamo tornati a Turabdin per difendere la nostra identità, il nostro futuro, per difendere la nostra cultura. Se fossi rimasto in Svizzera, cosa avrei fatto? Mi ricordo tutta la mia infanzia, i miei movimenti, la mia famiglia. Quando dormivo, quando giocavo. Tutta la nostra storia è qui. Io voglio rimanere e vivere qui. Io voglio rimanere qui. Io voglio vivere qui.